Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non voglio ripetere. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Non sono animali, sono persone cruele, con diverse agendazioni. in their mind. This is ISIS, this is not anything less than that. The world should know that and support us and also our government needs to wake up and unite and not play games of politics.